Andiamo avanti, adesso arriva il momento del test della settimana, siamo con Kawasaki e ovviamente a Napoli lo facciamo sempre in compagnia degli amici di Mamepi Motors, concessionario di Tony e Ciro Pizzo, questo bellissimo store che si trova a Casoria, saluto tutto lo staff della Mamepi, che ci ha messo a disposizione la Kawasaki R6N, moto da un grande contenuto, interessante, dinamica, intuitiva, molto agile, che consiglio sicuramente il luogo dei tanti scooter che si vendono a Napoli, ma con una moto del genere sicuramente si risolvono tanti problemi e si è a bordo di un oggetto molto esclusivo. Test Kawasaki R6N Dal suo arrivo sul mercato fino ad oggi abbiamo avuto sempre la possibilità di salire a bordo della Kawasaki R6N. Infatti sul nostro sito starbikers.it nella sezione test tv avrete la possibilità di vedere le clip dedicate a questa moto. Nelle sue tre recenti edizioni la R6N è cambiata molto. Stilisticamente si è andati sempre alla ricerca di un design innovativo, futuristico e si è riusciti a non sfociare troppo in preziosismi esasperati, fatti di spiugolature fantascientifiche. Segno evidente che Kawasaki ha avuto cura di questo tipo di utente, che è quello che la moto la usa tutti i giorni e per questo desidera un veicolo bello, dinamico, dai bassi consumi, ma che abbia caratteristiche tali da macinare chilometri anche nel tempo libero per lunghi weekend e viaggi di media-lunga percorrenza. Questo potrebbe essere in sintesi il contenuto della Kawasaki R6N, ma invece c'è molto di più. Il nostro test, realizzato in collaborazione con Mepi Motors di Tony e Ciro Pizzo, dealer Kawasaki per Napoli e provincia, ha evidenziato aspetti gradevoli e molto soddisfacenti su questa moto che analizzeremo in questo servizio. Si parte ovviamente dal motore il bicilindrico parallelo da 649 cm3, 8 valvole capace di 72 CV a 8500 giri minuto, che diventano 48 nella versione depotenziata, mentre la coppia massima ha un valore che si aggira intorno ai 6,5 kg metro a 7000 giri minuto, dati che si associano ad un peso dichiarato di 204 kg, ben distribuito sulla moto, che ha comunque un baricentro basso e che regala una maneggevolezza estrema. Questo motore è stato messo a punto negli anni per offrire un carattere lineare. L'adozione della doppia farfalla offre un'erogazione poco rabbiosa, ma energica quando la manopola del gas inizia a ruotare. C'è più coppia nei regimi medio-bassi e questo è un aspetto importante, soprattutto per i neofiti, che hanno la possibilità di apprendere bene le reazioni della moto senza soffrire per la sua eccessiva irruenza. Questa caratteristica, insieme ai bassi consumi, rendono la Kawasaki ER6N la moto ideale da utilizzare tutti i giorni in città, in luogo dei plasticosi scooter che poco offrono in termini di design e divertimento, mentre questa media di Akashi si propone bene anche in termini di sospensioni, grazie soprattutto ad un monoammortizzatore posto di lato alla moto ben realizzato, che attenua gli urti alla schiena e si stende bene per accompagnare la trazione della moto. Anche la forcella è di buona fattura, coppia bene il fondo stradale e ci aspettavamo che andasse presto in crisi, invece non è così. Un aspetto interessante quando si decide di alzare un po' il ritmo in curve e tornanti. Il telaio è più o meno quello utilizzato sul modello precedente, ma ora i suoi tubi, realizzati in acciaio ad alta resistenza, ospitano i condotti di aspirazione che offrono un flusso d'aria più costante e potente al motore, migliorando di fatto l'efficienza e le prestazioni del bicilindrico parallelo. Ha un aspetto gradevole per questo Kawasaki ha cercato di tenerlo il più possibile a vista, oltre ad offrire notevoli doti di agilità durante la guida. In più è associato ad un nuovo forcellone che segue le linee di tutta la moto, presentandosi anch'esso con un gradevole doppio tubo. Anche l'impianto frenante è ben proporzionato al tipo di moto, tra l'altro è un reparto questo in continua evoluzione in Kawasaki. La R6N equipaggia infatti i sistemi ABS Kibs e KCT, gli stessi che troviamo sulle super sportive in gamma e che garantiscono un vero punto di forza di questa moto. Così ci cimentiamo nel nostro test consapevoli di guidare una moto che di medio ha solo il suo inserimento nel mercato, nel senso che tutti i suoi reparti meritano di certo voti alti ed è difficile considerarla una moto di livello centrale. Questo perché Kawasaki ha bene in mente il concetto di soddisfazione dell'utente, che soprattutto se approda alla moto da zero, deve avere tutti gli elementi necessari per dirsi contento delle scelte effettuate in termini di design, prestazioni e godibilità della moto e in questo la R6N ha centrato l'obiettivo. Insomma, una moto molto giovane, molto briosa, frizzante, anche dal punto di vista tecnico avete visto i contenuti di questo bicilindrico della Kawasaki R6N e poi c'è la possibilità di allestire una serie di accessori aftermarket per personalizzare la moto come meglio si crede e per questo, siccome sono veramente tanti questi elementi, consiglio di andare in concessionario, come detto il nostro di riferimento è Mamepi di Tony e Ciro Pizzo, che troverete a Casoria. Nel prezzo d'acquisto della Kawasaki R6N il concessionario Mamepi di Tony e Ciro Pizzo ha incluso anche la manutenzione ordinaria gratis per due anni, ma solo per chi acquista a maggio. Grazie a tutti.